Bene ragazzi, mi sono scusate, ben ritrovati nel mio canale, guardate un po', che strana postazione e che strano gioco che stiamo giocando io e Teo Eh sì ragazzi, però ne vedrete delle belle, perché io e Teo, quando viaggiamo insieme, andiamo noi, andiamo alle 3, andiamo a Colonia Anche quando cagate, quando cagiamo, io vivo cagando, esatto, quando siamo in stanza insieme, a volte che fa le porcate, che è giusto che ci sta Giochiamo anche a Clash Royale insieme, diratevi che una volta siamo quasi arrivati alle mani, come è successo pochi secondi fa Allora ho detto, cosa ne dici di sfidarmi? Adesso io e lui, con ben tre mazzi di merda, diversi Di merda? Con tre mazzi di merda Con tre mazzi diversi, giocheremo tre partite e vincerà meglio delle tre Dovete cambiare per forza ogni partita? Sì Però c'è il tutto Quindi devo scegliere con quale iniziale? Sì Ma facciamo un applauso a me E qua c'è il MacBook di Johnny Che c'è già Il MacBook di Johnny C'è da dire che quando stiamo in giro, solitamente le prende, Gabbo Poi facciamo il video e devo farlo vincere Ma adesso sto giocando con un deck che non ho idea Beh, ce l'ho visto giocare tante volte, ma Non ho mai avuto questa angoscia di giocare a Clash Royale Proviamolo, proviamolo Ma in tre collocchi c'è un tre ascoltatore, io so Ho fatto una taggata già Sì, sì, sono i tre ascoltatori Sì, è ascoltato, l'ascoltatore Eccolo a sapere, ma qua devo fermarlo così Per forza Ok Vai Gabbo, devi fermarlo Avrei potuto subire un po' di danni, ma sinceramente Questa è un adulto big E qua mi fai danno, qui non c'è un pezzo Mi son dimenticato di cambiare la carta Ma va bene così Va bene così Gabby Qua mi fai danno a battare tutto dall'alto Sono un po' in difficoltà qui Brutta questa Brutta, brutta 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 Gabby Oh, bruttissima Bruttissima, ho sbagliato Dovevo aspettare, ragazzi è l'ansia È l'ansia da prestation È l'ansia da prestation questa Aspetta Gabby Square Aspetta, è causato troppi danni da oggi JL è anche qui È concentrato in un'alto È incredibile Ragazzi Sì, sì, Ron è l'arbitre Gianni, clicca l'arbitre in caso di Io sto usando il computer per registrare Però lo vedo anch'io perché si vede dallo schermo mio Raga Non potete capire Vai Bocciatore Non ci credo, c'è tutte le carte contro il mio deck Quel bastardo Vai Bocciolo Non si può Questo cammina Ma perché devo camminare con 170 Chi si entra E si vede benissimo Sì, esatto Ma guardalo te Non lo devo immaginare Usiamo queste qua Bastardo, Gabbo Vai Fai Fagli il danno Faglielo Dai Ma vaffanculo Un scontro accadito No, sono stupido Sì, 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 sì Sì, vaffanculo Zeron di merda È una bestia, Gabbo È una bestia, Gabbo Non piazzateci i soldi su sto gioco a scommesso Sennò che accortellate Un tot, vecchio È un problema serio Un po' maffera Bastardo, zio No, no Fallo Fallo Che cazzo ha parlato? Ci abbiamo Che cazzo ha detto? Che cazzo ha detto? Perfetto Oh, raga Guarda, io l'ho detto Che si crema Ma zio, sai cosa è il problema? Che adesso vincite perché io Questo deck è fatto per tirar giù una torre La seconda È sempre un dito in curo Ma io di quelli che sentono morire Penso che ci sono tipo Una coppia che si sta accostellando Ma l'hai messo quella cazzo di gelo, scemo Eh, poi anche la torre centrale, zio Quando si arriva la torre centrale Eh, mi spara anche quella Che è a finire i cosi, eh? 3D 4D 1-0 Mamma mia ti rimonta Sto qua era un deck, no, fate l'imantaggio dall'inizio, cazzo. Sto qua era il deck un po' del cazzo. Ok, 1-0 per Gabby Square, ragazzi, ma non è finita. Adesso ho cambiato il deck, sei pronto? Hai cambiato il deck? Vai. Allora io ripeto, provo sempre un deck che io non ho mai giocato. Che angoscia, ragazzi, cazzo. Mamma mia. Sei pronto, zio Teo? Vai, zio Gabby. Oh, oh. Ai, ai, ai. Questa cosa non mi piace, vai giù. Brutti, brutti, tutti i pezzi di po'. Madonna, tutti questi minatori. Ai, ai, qua mi stai da normalino. Ai, ai. Perché non ha mirato, cazzo, ho messo troppo indietro. Ah, sì. Ah, sono un coglione. Ah, sì, occhio. Perché non ha focussato la cosa. Non ha focussato. J-Rom7. Sono stato pilla io qua, eh. Oh, c'è J-Rom7. Oh, c'è J-Rom7. Ho sprecato una cosa molto importante, davvero. La cocaina. No, no, no. La scabbia. La scarica. La scabbia. La scarica! Intanto Gabbo, intanto Gabbo, intanto Gabbo. Eh, qua ho subito un tot, raga, perché mi faccio prendere da lancia io. Cazzo, quel bragetto lì non ci vuole, là. Un bragetto bagging the rules. Ah, che cazzo. Uh, ti ha focussato la torre. Eh, questo. Porca puttana, raga. Liga, c'ha sto cazzo di coso. Eh, ma ho sbagliato il giocatore adesso. Sì, che te l'ho tolto via. Ho sbagliato. Fanno tutti il tifo per te, quelli del mio clan. Ma cosa se sei pieno di roba rossa te, pirla. Oh, cazzo. C'è il minatore che io non sento, capisci? Vedi adesso? Non l'ho sentito il minatore, perché non c'ho l'audio di gioco. A me vanno bene quei danni, te lo sai. Non so se ti fanno bene quei danni. Oh, l'ho ripreso. Oh, l'ho ripreso. Però che fa male. No, non l'ha focussato. Eh, ma tanto non ti arrivo. Non faccio così. C'è anche la bagaglia lì. Dio pipetto. Oh, Grider! No, il tiro ne uno! Dio polibri! E' un'andata. E' un'andata. In modo scorretto, guardo. In modo scorretto il gioco? Cioè, scusa. In modo scorretto, guardo, guardo. Ok, guarda! Dai, questo cazzo di bagaglio qua. Questo bastardo. Questo bastardo. Ce l'ha fatto questo quadro. Questo bastardo. No, questo è dolore. Questo è dolore, questo è dolore. Questo dolore è un tot. Questo dolore è tanto. Dio po', c'è il coso lì. Eh, sì. Ti è dimenticato il mio bellissimo coso. Stupido, perché lo rifocusta? No! No! La centrale! No! La centrale! Non l'ho vista! Non l'ho vista! Non l'ho vista la centrale! La centrale! La centrale! La centrale! La bella! Cazzo! Gioca proprio a Lut. Sì! Lut è una brutta! Lut è brutta, raga, perché secondo me lui c'è il deck che aveva prima, io c'è il deck che aveva prima. Sei pronto, Teo? Non è che sei visto il mio pacco per... Gabbè umiliato scrive uno come... Guarda che bello, Gabbè, che non si vede in suoi. Sei pronto? C'è il run, eh, l'ultimo. Ma è bella la sequaratura così, eh? Sì. Sì. Fa molto sfida. Sì. Sì, ci sta. Un po' a vedere. I love New York. Vai! Ultima sfida, ragazzo! Se già dico battere Gabby Square, che lui è un gran giocatore di Flash Royale, contro un povero stronzo come me, eh, allora Gabby. Somma. Buona fortuna! Ma giocatevi qualcosa! Eh, cazzo, ci chiamano le fidanzate. Sì, sì! Voce fuori capo orgasmatica! È un po' bravo, Piero. Ma sta? Eh, è un'altra team pre... Prefire. 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 È lo scoof. Ah, sì, ragazzi. Ma questo è l'ultima partita? Sì. Cazzo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, che mi ha girato mano il deck. Che modaggio del deck. Porco tutto sto schifo di merda. È un member. Non mi merda. Dai! Eeeh, vabbè! Ma poi c'è un toro di voce più alto di qua. È altissimo, ragazzi, è altissimo. Ho sbagliato a girare gli scheletini, non so perché sono così stupido. Ora se io faccio così... No, ho sbagliato. Sbagliato tantissimo. Anche io ho sbagliato più la roba. Sbagliato tantissimo, sparate. Aia, questo è giù. Questo è giù, questo è giù, questo è giù. No! Oh, non l'ho preso la risposta! Questo è giù! Non l'ha presa! Porca troia! E' un errore clamoroso. Aia, 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 Jvon7, aia, Jvon7. Neanche una botta le tira, Dio! Aia, Jvon7. Salamandra! No! Non ve l'ha mai tagliata questo pezzo. Aia! Ha sbagliato a tirare il coso! Dai che non lo becca! Sono stupido, ma la cosa la preferisco. A tirarla dopo, raga. La scarica. Non mi preoccupate. Non ho tutto un altuno di preoccupare. Eccola. Eccola la scarica. Dove vai, Ron? Ah, vai lì. Vai bene. E che cazzo? Chi è che non sarebbe andato là? Un'unico grande problema adesso. Non so le bandare io. Non so se attaccare là e difendermi lì. Ma guarda, guarda, va affanché. Tiragli una patata. Battacca! Ti posso, ti posso, ti posso. Unico barbari, ti vado qua. Unico barbari. Tu ci vado, capito, un barbari. Bello, bello. Ho messo il suo barbari. Ti sparano il profumo, tipo, di barbari. Cazzo! Madre, no, c'è quel cazzo gigante lì che ha rotto i coglioni. Hai capito il buono qua giù. Hai capito il buono sì, fanno il culo di barbari. Fanno il culo di barbari. Fanno il culo. Sì, ma qua cambia un momento all'altro lì che va. Cazzo, ma cambia un cazzo. No, no, sto minatore di merda. Io non ce l'ho il minatore, il mio mazzo del cazzo. Non ce l'ho. Comodissimo, ca. Aia, 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 qua ho farmato, qua ho farmato. Non fai male, Dio. Quando faccio molto male. Sì, fino a mezzo ho fatto un po' per me, oddio. Mi sposto che comorono i coltelli. Oddio. Dai, va, puoi una medaglia. Ti vince, sperdelo. La vita è una scala. Devo riprendere, ragazzi. Molto spesso sono ammazzati. Cazzo! Sono state sfide belle combattute. Io ho fatto fare di più. Lui è stato molto bravo. No, ho fatto cagata alla fine io. Sono un piede. Sono stati tutti e due molto bravi. Ovviamente noi ci divertiamo, ragazzi. Nel mio canale Cresceva non va bene. Come vedete, io lo faccio perché mi piace. Divertiamo, assieme a voi e tutti gli altri. Saluto. Non l'ho registrato. Non è nero. Ragazzi, non l'ho registrato, mi diceva. Hai visto? Qua era visto l'occhietto suo. Sì, sì, ma ha fatto dare la volta a fuori. Non lo sa niente. Io vi saluto e vi ringrazio. Grazie a tutti per il supporto. C'è anche Spreadbuzz qua. Ma se tu mi piace un commento, forse torneranno queste sfide, se questo video mi piace. E probabilmente a fra due giorni, tre giorni e nove ore, inizia la sfida Stregone Elettrico. Che culo. Io farò forse sul canale, forse no, non lo so. Bisogna fare due ricevitori di fila per ottenere. C'è anche un'iscrizione gratuita. C'è anche un'iscrizione gratuita. Adesso lo chiede su questi cazzi. 700. Che cazzo. Sì, si è spammato Instagram. Però non metto il tuo. Conoscono tutti, zio. Che stronzo. Come se ti spammassi con me? Che ha il suo IDRED? Vabbè, signor, grazie a tutti per il supporto. Ci vediamo in un prossimo video. Qui da Gabby, di Spare, da Jron7, da Johnny Cricket, il IDRED. È tutto? Bello. Ciao, ragazzi. Cinti, ho battuto, Teo. Sì. Che cancro di merda. Che cancro di merda. Ah. Ah.